Se c'è uno sport che più di ogni altro non si pone limiti e non li pone ai suoi praticanti è sicuramente il rugby. Il terzo tempo, ovvero il momento conviviale tra le due squadre al termine della gara, è forse l'esempio più concreto di come questa disciplina non sia solo ricerca del risultato ma anche perseguimento di altri valori. Ecco perché allora nessuno sport meglio del rugby può rappresentare al meglio il concetto di integrazione che sta inoltre la meta, l'evento che sabato 11 e domenica 12 maggio convoglierà al campo del Fano Rugby in via Tomassoni due realtà dello stivale che da anni permettono ai ragazzi con disabilità di praticare sport senza alcun tipo di limitazione o barriera. Sappiamo già anche da indagini fatte che per alcune anche tipologie di disabilità non solo fisiche ma anche psichiche sicuramente si presta un gioco forte dove c'è la forza e dove c'è anche comunque il gioco di squadra che possono davvero rendere possibile l'impossibile anche in questo caso. Quindi speriamo davvero che arrivando qui a Fano delle squadre che già lo stanno sperimentando, questo mix da Roma e da altre città d'Italia, si possa dare avvio anche nel futuro in maniera stabile attraverso le nostre società di rugby di Fano, di Pesaro e di Urbino a questa attività che potrebbe inserire e includere in maniera definitiva veramente molti ragazzi del nostro territorio. I Romanes di Roma praticano il rugby in carrozzina mentre gli atipici di Bari il rugby integrato, vale a dire che nella stessa squadra ci sono ragazzi con disabilità intellettiva e facilitatori, cioè compagni di squadra normodotati. Sono queste le due squadre che arriveranno in città e che saranno ospiti del Pano Rugby, società non nuova ad aprire le proprie porte a persone con difficoltà, prerogativa che peraltro è intrinseca nello sport dalla palla ovale. L'inclusione del rugby è intrinseca, c'è da sempre, ogni club è abituato ad accogliere a braccia aperte qualsiasi tipo di disagio che sia sociale o di disabilità, quindi questo progetto è un qualcosa di più strutturato che vuole mettere in rete questa disponibilità del club, dei club di rugby. Il progetto che sta alla base della Due Giorni Fanese è il Mixed Ability, uno strumento che favorisce l'inclusione sociale attraverso la compresenza e l'integrazione di giocatori con differenti abilità, volontari, allenatori e insegnanti. Un metodo di lavoro studiato in questi mesi dagli organizzatori che oltre al Fano Rugby sono Onfalos, Liberamente e Rugby Urbino. Il rugby ha una marcia in più, ma non lo dico come presidente dell'Urbino. Io ho una società piccolina, dal punto di vista agonistico non funziona o la femminile perché le pari opportunità sono le pari opportunità. La scelta di un presidente donna significava per noi attenzione alla parità di genere, ma attenzione anche alla disabilità. Nel mondo sportivo, questo mi piace sottolinearlo, perché sono contesti dove i ragazzi rimangono ragazzi, dove la persona viene considerata nel benessere e non nel problema che ha. Siamo tutti un po' disabili. L'invito è pertanto rivolto alla cittadinanza ed esteso soprattutto a quelle famiglie che intendono far approcciare i propri figli, a prescindere dalla disabilità che hanno, allo sport ed in modo particolare al rugby, una disciplina dove in campo se ne danno di santa ragione, ma che è in grado di insegnare i veri valori dello sport.